E al vaglio della sovrintendenza il progetto esecutivo per completare i lavori al liceo classico di Sulmona. La progettazione che era stare affidata a un prezzo di 116.729,60 euro, gli architetti Pietro Centofanti e Emilio Cianfaglione starà depositata nei giorni scorsi in comune. Dal municipio è stata trasmessa la sovrintendenza per acquisire gli ultimi pareri. Stando alla tabella di marcia si dovranno completare i lavori con l'adeguamento dell'impianto elettrico antincendio, il cambio dei sanitari e le rifiniture varie. Per tale operazione richiesta la fornitura di materiale specifico. Si dovranno poi pianificare collaudi dell'uno e dell'altro lotto prima di restituire le chiavi alla dirigente scolastica per eseguire il trasloco, anche questo da non sottovalutare. La riapertura per settembre 2024, almeno secondo l'impresa che si era occupata della prima parte degli interventi, resta a rischio. Non è dello stesso avviso l'assessore lavori pubblici Lenia Rico, secondo la quale si tornerà in piazza 20 settembre per il prossimo anno scolastico. La provincia dell'Aquila, intanto proprietaria dell'edificio, ha stanziato 58 mila euro per sostenere le spese del progetto.